Ciao a tutti! Sono felice di vedervi alla mia festa! Bene, ci divertiremo un mondo! Ehi Barbie, stai benissimo! Hai pensato a tutto, Barbie! C'è anche una vasca idromassaggio! Fantastico! Grazie! Ci ho messo molto impegno! Ciao, ragazzi! Posso chiedervi chi ha organizzato una festa così noiosa? Oh, la mia festa! Ma tutti si stanno divertendo! Questo è quello che pensi! Mi è venuta in mente una cosa! Ma mi sono impegnata tanto! Ho pensato ad ogni dettaglio! E non le piace! Ho portato qualcosa di interessante! Cos'hai lì? Ah, vedrai! Che pesciolini carini! Vi presento i miei piranha! Cosa sta succedendo? Oh! Devo andare a casa! Oh! Penso di aver dimenticato di spegnere il ferro! Ehi, dove state andando? La festa è appena iniziata! Cos'è successo? Volevo solo che tutti si divertissero, ma si sono spaventati! La festa è rovinata! Sono così triste! Mi dispiace, Barbie! Avevo buone intenzioni! Ho un'idea! Seguimi! Cosa? Cos'hai in mente questa volta? Ciao, Chris! Ciao! Come posso aiutarti? Interessante! Barbie, per favore mettiti comoda e fidati di Chris! Io intanto vado a preparare la location per una nuova festa! Ti piace questo look, Barbie? Oh, sei sicura che mi starà bene? Oh, sicura al cento per cento! Che ne dici di questa? È una bella maglietta! E questi pantaloncini di pelle? Andiamo in camerino! Forza! Ti piace? Come sto? Manca qualcosa! Ah! Ecco! Prendi! Wow! Così va meglio! Devo solo truccarti e pettinarti! Sarà una grande festa! La chitarra è accordata! Controlliamo! I drink sono pronti! Gli ospiti sono invitati! Devo solo portare Barbie! Finito! Oh, Barbie! Sei irriconoscibile! Grazie! Sbrigati! Gli ospiti ti stanno aspettando! Ehi! Benvenuti alla festa più bella di sempre organizzata da Barbie! Ma dov'è Barbie? Ciao a tutti! Come va? Pronti a ballare? Wow! Semplicemente wow! Barbie è cambiata! È tutto merito di mercoledì? Grazie! Ah 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 ah!